Salve a tutti e benvenuti a questo speciale 1000 iscritti. Già siamo in 1000, sono contento di questo traguardo che non mi sarei mai aspettato e appunto ho deciso di fare uno speciale, un po' diverso dal solito dagli altri video e poi vedrete anche il perché. Con un mio amico ha in casa un serpente e gli serve una teca, un terrario dove metterlo. Il problema qual è? Che i terrarios che sono in vendita hanno misure standard e non ci stanno nel suo scaffale. Abbiamo deciso di costruirne uno insieme. Questo sarà uno speciale, lo speciale 1000 iscritti, che può essere molto utile perché online ci sono pochi tutorial su queste cose e poco dettagliati. Io cercherò di farlo più dettagliato possibile anche se quando si lavora non è che si può fare molto. Anche perché lavoriamo nel box e non è che si possono fare miracoli. Quindi comunque cercherò di farlo più spiegato possibile alla portata di tutti perché se ce l'abbiamo fatta noi, è presto a parlare, però comunque se ce l'abbiamo fatta noi a farlo per adesso ce la possono fare tutti. Quindi detto questo vi ringrazio e godetevi questo video che per chi ha animali di questo tipo può essere molto molto utile. Buona visione! Io ho iniziato con l'andare al brico a prendere un asse di legno e farcela tagliare in vari pezzi come nel video che state vedendo. Mettiamo quindi la colla sui lati dei pannelli di legno consiglio di usare quella che stiamo usando noi da parte dei segni dei chiodi stando attenti a non sbavarla fuori perché potrebbe essere nociva per l'animale. ma su questa parte diamo un'accelerata tanto avrete sicuramente capito come si fa e l'operazione si ripete per tutte le assi. Incolliamo alla base i nostri due lati del rettangolo perché alla fine un rettangolo sarà mettendole dritte ovviamente. Ripetiamo la stessa operazione dall'altro lato. otterremo quindi un risultato di questo tipo con uno straccetto da buttare ovviamente andate a rimuovere i residui di colla all'interno perché potrebbero essere nocivi per l'animale che andrete a mettere lì dentro. In questo caso c'era un pezzo in eccesso nel pannello di retro del nostro terrazzo siamo quindi andati a tagliarlo. una volta tagliato delle dimensioni giuste stessa storia colla sui lati e incollare dritto qui potete vedere il montaggio del retro se ci sono spazi dove non c'è la colla andate a riempirli mettendo la colla su uno stuzzicadente e un chiodino per riempire lo spazio ed ecco alla fine il risultato ottenuto si lascia asciugare la colla per almeno mezza giornata per poi andare successivamente con delle viti a fissare i pannelli di vento ma tutto questo lo vedrete in una seconda parte si deve asciugare la colla grazie a tutti grazie a tutti